Gregorio di Nazianzo. Gregorio, vissuto tra il 330 e il 389-390, godette di amicizie davvero importanti. Il suo più importante amico fu indubbiamente Basilio, conosciuto prima durante l'adolescenza a Cesarea di Cappadocia e poi ad Atene. Qui i due si erano recati per perfezionare i loro studi. Sembrava che fossimo un'anima sola in due corpi, si dice nei discorsi, rievocando gli anni trascorsi insieme ad Atene. L'affetto tra le due figure non venne mai meno, anche se conobbe momenti di forte tensione. La personalità energica di Basilio si scontrava con quella di Gregorio, dotato di un animo poetico e emotivo, propenso alla solitudine e alla contemplazione. Basilio diede vita a una comunità monastica, ad Annisoi, nel Ponto, ma Gregorio, che pur aveva aderito al progetto di esistenza concepito insieme negli anni attenesi, lo abbandonò e preferì tornare alla casa paterna, sognando di poter condurre un'esistenza più solitaria e ritirata. Verso la fine del 361, o l'inizio del 362, venne suo malgrado ordinato presbitero dal padre, vescovo di Nazianzo. Mi piegò con la forza, racconta nell'autobiografia, ricordando quell'evento. A quella violenza Gregorio reagì nel modo che gli era più consono, con la fuga. Dopo alcuni mesi assunse in piena obbedienza al suo ministero, accettando, come più volte gli succederà nel corso della sua esistenza, di essere portato laddove non voleva andare. A distanza di circa dieci anni sarà lo stesso Basilio, che pure conosceva molto bene i suoi sentimenti, a imporgli la consacrazione episcopale. Basilio, eletto vescovo di Cesarea nel 370, era stato costretto dalla politica ariana dell'imperatore valente a moltiplicare il numero delle diocesi che dipendevano da Cesarea, in modo da garantire un buon numero di vescovi fedeli a Nicea, che fossero dunque in grado di far fronte alla avanzata dell'arianesimo. Contro ogni sua aspirazione, Gregorio fu ordinato vescovo di Sasima, un paesello di frontiera tra la Cappadocia I e la Cappadocia II, un paese nel quale, a onor del vero, non entrerà mai. Avrebbe dovuto entrarci con le armi in pugno, poiché Sasima, insignificante sul piano pastorale, si trovava in una posizione strategica sul piano economico e politico, ed era un paese conteso da un altro vescovo ariano. Gregorio seguita però a sostenere l'amico Basilio con la sua amicizia. Come era intervenuto anni prima a mettere pace tra lui, ancora presbitero, e il vescovo Eusebio, così negli anni dell'episcopato lo protegge da chi lo accusa di essere eccessivamente prudente nel proclamare la divinità dello Spirito Santo, e lo consola con le sue molteplici epistole. Nel 379 Basilio muore e Gregorio, malato, non può essere accanto all'amico. Nel 380 l'imperatore Teodosio chiama Gregorio a Costantinopoli, a ciò che possa guidare la piccola comunità cristiana fedele a Nicea, e in questa città Gregorio pronunzia i cinque discorsi che gli valgono l'epiteto di teologo. Ma Gregorio stesso precisa nei suoi testi che la teologia non è tecnologia, non è un'argomentazione umana. La teologia nasce invece da una vita di preghiera, da un dialogo assiduo con il Signore. In veste di vescovo di Costantinopoli, Gregorio prende parte al concilio del 381, e dopo la morte di Melezio, che ne aveva guidato la prima parte, viene chiamato alla presidenza. Le sessioni conciliari furono decisamente travagliate, i sostenitori dei due candidati alla presidenza della chiesa di Antiochia non riuscivano a trovare un'intesa, e lo stesso Gregorio viene accusato di occupare illegittimamente la sede di Costantinopoli. Infatti era già stato nominato vescovo di Sasima. Una volta di più si ripeteva quello che già un tempo Gregorio aveva detto con parole accorate, queste le sue parole nei discorsi. Abbiamo diviso Cristo, noi che tanto amavamo Dio e Cristo. Abbiamo mentito gli uni agli altri a motivo della verità. Abbiamo nutrito sentimenti di odio a causa dell'amore. Ci siamo divisi l'uno dall'altro. Confessandosi incapace di fare opera di comunione, Gregorio abbandona il concilio. Lasciatemi riposare dalle mie lunghe fatiche. Abbiate rispetto dei miei capelli bianchi, dice nei discorsi. È il mese di giugno del 381. Nell'autunno del 382 Gregorio accetta la guida della comunità di Nazianzo. Vi rimane un anno e poi si ritira in solitudine ad Arianzo, dove proprio lui, l'uomo della parola, trascorre un'intera quaresima in assoluto silenzio, a segno e monito del fatto che la parola era stata svilita, abbassata al rango di vana chiacchiera e ad arma da usare contro l'altro. In quegli anni compose il poema sulla sua vita, che è poi una rilettura in versi del suo cammino umano e spirituale, e compose altresì numerose poesie. Nulla sappiamo degli ultimi anni di solitudine e di preparazione all'incontro con Dio da parte di Gregorio. La morte avvenne verso il 390, come già ricordato. Forse in questi versi sono custoditi i suoi sentimenti, così leggiamo nei poemi. Fu soltanto tirannia? Sono venuto al mondo. Perché sono sconvolto dai flutti tempestosi della vita? Dirò una parola audace. Sì, audace, ma la dirò. Se non fossi tuo, o mio Cristo, quale ingiustizia. Gregorio è un uomo mite, di pace, lotta lungo tutta la sua vita per fare opera di pace nella chiesa del suo tempo, travagliata e divisa dalla controversia ariana, dagli scontri e dalle gelosie tra i pastori. Ma è anche un uomo che con coraggio evangelico sa trionfare sulla propria timidezza. Il suo carattere è incline al silenzio, ma non di meno Gregorio proclama la verità senza timore. È uno scrittore decisamente fecondo che ha composto numerosi discorsi. I 45 discorsi giunti fino a noi sono stati pronunciati per la massima parte a Costantinopoli negli anni racchiusi tra il 379 e il 381 e comprendono i cinque discorsi teologici, le invettive contro Giuliano, alcune omelie liturgiche, alcuni panegirici, i discorsi di circostanza in cui prende posizione a favore del suo operato, l'addio a Costantinopoli e i discorsi sulla povertà. Oltre alle numerose epistole da lui stesso pubblicate, Gregorio compone 17.533 versi in 185 opere poetiche. Si tratta di un'attività che ha davvero qualcosa di prodigioso, a prescindere dai risultati artistici su cui si può discutere. Molte di queste poesie sono autobiografiche. Il poema più lungo, in 1949 versi, è quello consacrato alla narrazione della propria vita, dalla nascita alla partenza da Costantinopoli. Così aveva scritto nei discorsi Gregorio. Servo della parola, io aderisco al ministero della parola, che io non consenta mai di esserne privato. Questa vocazione io l'apprezzo e la gradisco. Ne traggo più gioia che da tutte le altre cose messe insieme. Il numero dei panegirici pronunziati in onore di Gregorio testimonia, direi in maniera efficace, il culto di cui egli gode nella tradizione bizantina. Possiamo ben dire che il culto di Gregorio è ben presente in tutta la storia del cristianesimo. Grazie a tutti.